Stretta, questo è Ninetto Davoli, ottimo terzino, io sono Ninetto Davoli, questo è l'intervistatore Allora senta Ninetto, allora lei cosa ne pensa della partita? Una buona partita, ho visto un ottimo terzino destro Ma secondo me, essendo uno competente della squadra vostra degli azzurri, secondo me che sono dei personaggi che giocano Però così è meglio che fanno l'attore, guarda